Giovedì 27 maggio, buongiorno a tutti voi cari telespettatori di Fano TV che ci seguite ogni giorno, ogni mattina alle 7 in diretta e poi naturalmente durante la giornata con le repliche sia in televisione ma anche un demand sui vari mezzi che abbiamo a disposizione, internet, il nostro sito internet, occhialanotizia.it ma così anche attraverso le nostre pagine Facebook e YouTube. Allora partiamo subito dal santo di oggi, oggi è Sant'Agostino Vescovo di Canterbury, il sole è sorto alle 5.32 e tramonterà alle 20.42. Il tempo previsto ve lo facciamo vedere in un colpo d'occhio, giovedì, venerdì e sabato, non c'è molto da dire, ci sarà un sole, sole e qualche nuvola un po' più nuvoloso sabato, il peggioramento arriverà nella giornata di domenica, soprattutto domenica pomeriggio quando ci sarà un marcato peggioramento del tempo con l'arrivo della pioggia. Allora i giornali Corriere Adriatico edizione di Pesaro, l'apertura è per il problema che c'è, che si è creato tra gli albergatori di Pesaro e i bagnini che gestiscono appunto le spiagge. Per un pugno di sabbia, sembra il titolo di un film, è invece il titolo dell'edizione di oggi, il comune prova a mediare un braccio, nel braccio di ferro tra gli albergatori bagnini per gli ombrelloni e i turisti e con Fartigianato richiama APA, che è l'associazione degli albergatori pesaresi. Deve risolvere i problemi tra i suoi associati e poi si parla di strutture covid-free. A centropagine invece questa bella immagine del palazzetto, del Palazzo dello Sport, del Palace di Pesaro, la Vitri Frigo, che diventa palcoscenico mondiale in questi giorni perché c'è la ginnastica, la ginnastica ritmica, quindi ginnastica a livello mondiale e le ginnaste più brave si esibiranno appunto e gareggeranno anche quest'anno qui a Pesaro. Poi in zona bianca avvia il coprifuoco e riapre tutto, ma non si balla. Quella di ieri è stata la giornata dei governatori e dell'accordo con il Ministro della Salute, durante la quale riunione si è condivisa una linea di azione per le zone bianche. Restano mascherine e distanziamento, ma sparisce il coprifuoco. Non solo, vengono anticipate tutte le riaperture, tranne che per le discoteche. Il divieto di ballo però è in fase di contrattazione. Poi ci sono le notizie in breve sulla prima del Corriere di oggi, i vandali che hanno fatto una scorreria alla scuola Don Milani e sono state sfondate le porte. Affano un pentito di camorra che cerca di aprire un bar falsificando i certificati e poi un pensionato che è stato preso a bastonate e morsi dalla sua ex compagna che si è ribellato e l'ha denunciata. E poi l'addio ai due comuni, un distacco doloroso a Quaroli sulla secessione del Monte Feltro. Paolini dice la marchigianità va meritata. Questa è invece la pagina del Carlino di Pesero. L'apertura è, con la fotonotizia di oggi, è per le spiagge e soprattutto la rabbia del sindaco di Gabice, Pascuzzi, che dice la vicina Romagna rispetto ai vaccini è avanti. Noi rischiamo di perdere turisti perché se non li vacciniamo, ciao turisti. È una protesta, una vibrante protesta che vedremo se porterà risultati. Vandali a scuola, porte devastate, invece l'apertura, notte brava, ride all'elementare Don Milani, mentre ai Bagnicira è stato incendiato un ombrellone. Il dramma invece di una famiglia della Celletta, dai nonni ai nipoti tutti contagiati, così abbiamo affrontato il virus e siamo riusciti a vincerlo. Le altre notizie, sempre dalla prima, ruota panoramica in Viale Trieste, non va bene, la trazione rischia di saltare perché il camion non passa. La secessione Montecopiolo e Sassofeltrio fa male perdere questa battaglia. Le reazioni di Acquaroli e del Presidente della provincia Paolini. Poi l'odissea di una donna, tra l'altro che soffre di diabete, si chiama Maria, registrata, ma aspetta il siero da 21 giorni. Aspetta di essere vaccinata la signora ha 80 anni. Edoardo Gili, il nuovo singolo per celebrare i nostri monti, l'inno in musica alla natura. Poi qua sotto lo sport, come sempre, il basket Cinciarini e Hackett Pesaresi in Euroliga, mentre il volley, battuta Pinerola e dunque megabox da sogno, la 1 sempre più vicina. La questione della secessione sulle pagine del Corriere e del resto del Carlino. Intanto il benvenuto in Emilia Romagna da parte, quindi il saluto da parte del Presidente della Regione Bonaccini. Il saluto alle due comunità di Montecopiolo e Sassofeltrio. Dice Bonaccini insieme a Calvano, Sassofeltrio e Montecopiolo hanno molti elementi in comune con la nostra Regione. Ci legano fattori culturali e storici, oltre che geografici, ma anche economici, che giustificano il senso di appartenenza dei cittadini alla Romagna. Li accogliamo con lo stesso entusiasmo che loro hanno accolto e hanno manifestato per il passaggio nella nostra Regione. Invece toni completamente diversi, il titolo doloroso, l'addio e due comuni, il Monte Feltro deve essere unito, il Presidente delle Marche Acquaroli sul distacco, le reazioni di Paolini e Ucchielli. Tra l'altro Ucchielli lo visse in prima persona quando ci fu il referendum, perché era Presidente della provincia di Pesaro e Urbino. Sulla pagina di Urbino, invece del resto del Carlino, il titolo è Con la secessione una legge pasticciata. Critiche dall'onorevole Morani, espressioni di delusione e dispiacere per la perdita di Montecopiolo e Sassofeltrio da Acquaroli e Paolini. Diventa sempre più complicato promuovere un territorio così diviso. E questo è il cartello, sono, vedete, i cartelli con le indicazioni dove finiscono le Marche e inizia l'Emilia Romagna. Il confine della Romagna si avvicina pericolosamente a Urbino. Ieri noi abbiamo fatto un servizio, ieri personalmente sono andato a visitare questi due bellissimi posti che sono in un contesto naturale straordinario, quello appunto del Monte Feltro, sia Montecopiolo che Sassofeltrio, sono due centri, ho pranzato con alcuni cittadini e devo dire che sono persone che non hanno granché da spartire effettivamente con la provincia di Pesaro e Urbino. Si sono sempre sentiti Romagnoli. Un ristoratore mi diceva di Sassofeltrio io solo così perché mi sembrava strano scriverlo ma avrei scritto Cucina Romagnola. Io faccio Cucina Romagnola in questo ristorante ma non l'ho scritto, adesso potrò scriverlo. Tutto lì parla di Romagna. Al di là poi del discorso dei servizi che sono importanti, le strade per esempio raggiungere l'ospedale più vicino in questo momento o di riferimento più che più vicino all'ospedale di riferimento sarebbe quello di Urbino ma siamo a 40 km da lì con tutte strade impervie, d'inverno potete immaginare con due dita di neve già diventa molto complicato. Ma sentite questa dichiarazione, ieri ho incontrato il sindaco di uno di questi due paesi, Bruno Ciucci che è il sindaco di Sassofeltrio che a un certo punto mi ha raccontato di cosa fanno per esempio alcune persone che devono farsi ricoverare in un ospedale che pur di non andare ad Urbino, sentite che cosa fanno? Alcuni, quanto si devono ricoverare? Si portano a confine, in un paese prima della nostra frazione di fratti, chiamano l'ambulanza, aspettano lì nel parcheggio del bar, dove c'è un bar, aspettano lì l'ambulanza, ti deve prendere perché è il mio territorio romagnolo. È successo anche di questo. Quindi la gente va lì così si fa prendere in carico dalla Romagna? Esatto, è logico che se succede un incidente è che quello lì non è in grado di decidere. Ecco, non c'è molto da aggiungere. Andiamo avanti. Virus in laboratorio, nuovi sospetti, gli scienziati, indagare ancora in Cina. Biden ordina agli 067 un report. La diffusione deliberata non è esclusa. Zambon, che è un ex dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice non sapremo mai la verità. C'è un articolo dove appunto ci sono adesso i dubbi di alcuni virologi come Fauci dagli Stati Uniti che dice non sono certo dell'origine naturale di questo virus. Poi da qui a raccontarcela pubblicamente ce ne passa, ma sicuramente molti già sanno che effettivamente il virus non è di origine naturale. E questo spiega anche il perché è così difficile, è così difficile con tutte queste varianti eccetera, è così difficile liberarsene. Ma la prova credo del 9 arriverà a ottobre, se dovesse ritornare ancora una volta e con la stessa forza o addirittura più potenziato, vorrà dire appunto che non è un virus naturale, ma è stato potenziato in laboratorio. E allora lì saranno problemi. Intanto da questo articolo vorrei segnalarvi soltanto, e ho evidenziato, quest'ultima parte dove si dice il super virus creato in Cina. Ora, già dall'anno scorso qualcuno l'aveva riproposto sui social, questo filmato del TG3 Leonardo, un filmato, un documentario del 16 novembre, pensate del 2015, quindi in tempi non sospetti. E questo documentario iniziava così. Scienziati cinesi creano un super virus polmonare da pipistrelli e topi, serve solo per motivi di studio, ma sono tante le proteste. Ecco, così cominciava appunto questo servizio del TG3 Leonardo. L'introduzione di copertina si conclude con una domanda. Vale la pena rischiare? Un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina dai pipistrelli sul virus della SARS, la polmonite acuta, ricavato da topi, e se ne esce un super virus che potrebbe colpire l'uomo. Questo sempre in questo servizio del TG3 Leonardo. La comunità scientifica italiana ha subito smentito però questa versione, però a smentirle si fa presto. Io dico no, non è vero e finisce lì. Ma un conto è dire non è vero, un conto è dimostrarlo. Lì ci sono le registrazioni, se andate a cercare su internet lo trovate. TG3, quindi parliamo della testata della RAI, che a un certo punto fa questo servizio con tanto di descrizione precisa e minuziosa. Mentre a Urbino, l'abbiamo tirato in ballo prima parlando della distanza tra Monte Copiolo e appunto il centro di Urbino, a Urbino c'è questo nuovo hub centro vaccinale che sta funzionando bene, almeno lo dice Stefano Guzzi, che è anche alla delega regionale per la protezione civile, che ieri è andato a fare visita a questo hub, ma si è anche fatto vaccinare. Capienza per mille dosi, ieri visita all'impianto dell'assessore, con delega della protezione civile e del sindaco di Urbino, Maurizio Gambini. Si è fatto la prima dose, mi fa piacere il breve lasso di tempo, dice Aguzzi, tra la prenotazione e l'inoculazione. Mentre di sanità si parla sempre sul resto del Carlino, perché? Sanità e politica soprattutto, il PD si risveglia e pensa al nuovo ospedale. L'ospedale è quello di Pesero, convocata all'assemblea regionale per il 5 di giugno, ma intanto si rinvigorisce il dibattito sulla sanità. Occhi puntati su cosa fa il governatore Acquaroli. La pagina di Fano, il turismo sportivo accende l'estate in città, il fine settimana di discipline acquatiche in programma ha già fatto registrare il pienone, una prima forte spinta in vista della ripartenza. Sono circa 750 le persone che verranno questo fine settimana a Fano e che sono legate da queste attività marittime del mare. La gente viene a Fano per lo sport, ma poi, dice Luciano Cecchini degli albergatori, torna anche a Fano per le vacanze in famiglia. L'altra pagina invece di Fano, del Corriere Adriatico, c'è una notizia che riguarda due notizie, un processo e una notizia di cronaca. Allora, picchiato e preso a morsi dalla ex pensionato, si ribella e la denuncia. Lei ha 45 anni ed è sotto processo. A 76 anni si è stancato praticamente della donna con cui aveva questa relazione, che a suo giudizio era troppo manesca e che gli incuteva persino paura e quindi è andato diritto dai carabinieri. Lui è un onesto signore forsempronese che aveva allacciato questa relazione con una donna di 45 anni, anche lei residente a Fossombrone, sosteneva di essere stato picchiato, preso a morsi, ricattato e perseguitato. Per minacciarlo ha addirittura tirato il freno a mano mentre erano in auto. Poi lo schianto, come vedete, che è avvenuto a Fano ieri intorno alle 13.15, lungo via Miraglio Cappellini, siamo a Ponte Sasso di Fano. A bordo c'erano due ragazze, due ragazze di 20 anni, che sono state medicate perché entrambe le giovani donne erano visibilmente sofferenti. Anche se poi le lesioni riportate nello scontro, pur dolorose, sono comunque risultate meno pesanti di quanto erano apparse all'inizio. Insomma, ecco, quindi due ragazze ventenniche che sono poi finite all'ospedale Santa Croce di Fano. Poi un pentito, falsifiche e certificati, voleva aprire un bar a Fano, siamo sempre sul Corriere Adriatico, è stato condannato. Al suo attivo, un passato criminale negli anni roventi della Napoli, anni Ottanta, voleva aprire un bar a Fano, ma finisce a processo per farse dichiarazioni sulle proprie qualità, soprattutto sul candore della sua fedina penale. Si tratta di un 63enne campano, diventato collaboratore di giustizia, che aveva deciso di aprire un locale nella città della Fortuna. Ieri il 63enne è stato condannato a otto mesi, questo scrive il giornale. Poi il Carlino, assalto alla scuola, spaccate dieci porte, siamo nella scuola di Don Milani in via Toscanini a Pesaro, l'incursione è avvenuta nella notte, oltre al danno non sembra mancare nulla, furti in villa poi e anche nei negozi di vestiti. La polizia in piazzale della Libertà poi ha sedato una zuffa tra giovani, anzi no, quando sono arrivati questi giovani poi se la sono date a gambe, c'è stata questa rissa alla palla di pomodoro. Poi qua sotto vedete le fotografie invece del nuovo prefetto di Pesaro Urbino, ovvero Tommaso Ricciardi, che si è insediato ieri ufficialmente, ieri mattina, ha svolto le prime visite ufficiali, ha incontrato i dirigenti e il personale della prefettura, poi il sindaco di Pesaro Ricci e poi ha proseguito la sua visita istituzionale recandosi al Palazzo di Giustizia dove c'erano ad attenderlo il presidente del Tribunale Giuseppe Fanuli e il procuratore della Repubblica Cristina Tedeschini. Poi nel pomeriggio ha avuto un incontro con i vertici delle forze dell'ordine. Restando a Pesaro questa è la pagina che si occupa della ruota panoramica che evidentemente è troppo grande, non riesce a trovare una collocazione idonea. Salta anche quella prevista che avevano pensato in Viale Trieste perché il bilico, cioè il camion che dovrebbe poi portare le attrezzature in quel punto non ha gli spazi di manovra. Ora la trazione rischia a questo punto di essere archiviata del tutto. L'assessore Belloni dice al limite, o ne facciamo a meno, non è essenziale la ruota panoramica mentre la bagnina Sabina Cardinali dice è il degrado che ci preoccupa, non è la ruota panoramica. Vaccinazione invece a Marotta in sala Ciria. Chi? Già 100 persone si sono prenotate per vaccinarsi in questa sala dove lunedì 31 maggio partirà in via sperimentale questo punto vaccinale di prossimità, si chiama così. Ed è gestito dai medici di medicina generale. Ora le prenotazioni sono arrivate da tutto il territorio comunale, da tutta la bassa e media Valcesano, da Monteporzio, Mondavio, da San Costanzo, ma anche da Ponte Sasso e Terre Roveresche. Le date previste per fare il vaccino, oltre a quella del 31, sono venerdì 4 giugno, lunedì 7, martedì 8 e venerdì 11 giugno. In queste 5 date il centro sarà aperto di pomeriggio, praticamente dalle 15 alle ore 18. La Vitri Frigo, quindi il Palace Port di Pesero, è pronto per la ripartenza con un palcoscenico davvero straordinario, mondiale, perché dal 28 al 30 di maggio le migliori ginnaste del mondo saliranno in pedana per la dodicesima edizione di una manifestazione che è diventata uno degli appuntamenti più importanti del circuito internazionale della ginnastica ritmica. E quest'anno, tra l'altro, oltre a coincidere con le finali di tutte le tappe della Coppa del Mondo, è anche qualificante per le prossime Olimpiadi di Tokyo. Ora, va detto che non ci potrà essere il pubblico, ovviamente, ci sarà qualche diretta televisiva. Tutto diventa molto più complicato nell'organizzazione, perché come avvengono solitamente in questi casi, per le competizioni sportive, ma anche canore, insomma, si deve creare una sorta di bolla con dei protocolli molto rigidi, proprio per evitare che chi c'è dentro questa bolla sia positivo. Quindi tutte le persone che entreranno dentro la bolla devono essere assolutamente negative. E nessuno può arrivare da fuori, nessuno può entrare dall'esterno. E quindi capite che organizzare un evento del genere, che tra l'altro l'evento è organizzato dall'Aurora, quindi l'organizzazione è molto fanese in questo senso. Quindi ormai è consolidata, è collaudata e sta facendo davvero molto bene. Da Senigallia, invece, i bar in spiaggia e in rivolta perché dicono no alle chiusure anticipate. L'idea dell'amministrazione di far abbassare le serrande alle 9 di sera non piace alla confartigianata. Si creerebbero disparità e si colpiscono i turisti. Poi c'è uno schianto, invece, nell'incrocio maledetto a Borgobicchia. Una settimana fa ci fu la morte di Marco Cesaroni, adesso in due invece finiscono all'ospedale, quindi un altro incidente. E poi la notizia della morte di Maurizio Ceppetelli, tutti lo conoscevano come Ceppo, che se ne è andato a 61 anni dopo una malattia. C'era un'altra notizia che però volevo leggervi, che evidentemente mi è saltata. Eccola qua, sì. Eccola qua. Dal Corriere Adriatico. No, non è questa. Scusate. Ve la faccio vedere da qua. Eccola qua, sì. Qui sotto. Guardate questa fotografia. Allora, il titolo non è la prima volta, succede. Si svegliano e trovano una serpe nel bagno. È successo a Marotta, nella frazione anzi di Ponte Sasso, ieri mattina, dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Fano per rimuovere questo animale, che è un biacco, quindi niente di che, innocuo, soprattutto nei confronti dell'uomo, ma che ovviamente averla in casa. Abiscia fa sempre un certo effetto, non so perché. Però, io ne ho viste anche una l'altro giorno, era lì ferma al sole, posizionata ferma, ma pur sapendo che appunto era identica a questa, un biacco, quindi non è certamente pericolosa per l'uomo, però insomma fa un certo effetto. Comunque aveva generato apprensione tra gli abitanti di un condominio di Via Lago di Seo. Ora chiudiamo questa rassegna con questa notizia che arriva sempre dai giornali a pagina 19. Ieri ho accennato, traendo spunto dalla notizia pubblicata sulla pagina di Fano, di quel malinteso tra l'attrice Aurora e il dirigente della Nazionale Cantanti. Oggi a pagina 19, su questa faccenda, su questo argomento, scrive La Nazionale Cantanti è il caso di sessismo, il dirigente mai detto nulla del genere. È la difesa di Pecchini dopo le sue dimissioni. Dimissioni tra l'altro che lui ha preferito dare immediatamente perché era stato praticamente attaccato. Io non cerco di difendere, io non so nemmeno chi sia questo Pecchini, quindi non lo conosco, pur essendo venuto a Fano più volte, immagino, perché a Fano ha giocato la Nazionale Cantanti, ma non lo conosco, quindi non ho nessun interesse da questo punto di vista. Dico soltanto che lui ha detto, eccolo qua, aspettate, i Jackal venivano da Napoli, quindi Ciro e Aurora venivano da Napoli e mi avevano spiegato che avevano chiesto, visto la distanza che dovevano percorrere in treno, di poter anticipare il loro arrivo e quindi verso di loro era stata fatta un'agevolazione. Vabbè, io sono andato lì e ho semplicemente detto ragazzi questo è il tavolo della Nazionale Cantanti e gli ho chiesto gentilmente se si potevano sedere in altri tavoli e così hanno fatto, visto che hanno mangiato nel tavolo a fianco. Ora, siccome io penso che sia andata così, insomma, nel senso che ho visto personalità, tra virgolette, alzarsi a teatro perché qualcuno degli organizzatori li aveva messi in seconda fila e non erano in prima fila, ho visto personalità alzarsi e andarsene. Quindi, capite, il delirio di onnipotenza fa fare anche queste cose. Uno magari perché ha detto, guarda, potresti andare sul tavolo perché qui c'è la Nazionale Cantanti e ha fatto tutto sto pandemonio. Credo più a questa versione. Comunque, poi, i problemi sono altri. Siamo qui per commentare. Noi invece ci fermiamo, ci salutiamo e vi dico che questa sera alle ore 21 c'è un approfondimento in studio qui su Fano TV sulla rassegna impronte femminili con l'assessore alle pare e opportunità del Comune di Fano, Sara Cucchiarini. Poi alle 18 invece il rosario dall'Ucraina. Alle 20.30 invece c'è il telegiornale Occhio alla Notizia, al quale chiediamo come sempre per la vostra collaborazione preziosissima con le segnalazioni al numero 338-4968-250. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti.